Oh, me lo vanno di fuori, va, boom! Aio, aio, aio! Oh, oh, oh! Me lo vanno, non c'è la mano! No, non c'è la mano! Va, va! Oh! Onde vò io, Matilde? Onde vò? Reggi, stai grullendo! O sei di sui te! Oh, vai, pum! Oh! Che ti ha fatto qui? Non lo so! Come, 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 come! Tu cazzo, tu cazzo? Come, 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 come! Come, come, come! Come, come, come! Arrivano fino a un buro! No, qui c'è gli ombrelloni, non veni più qua! Perché? Perché guarda, se tu casca lì ti fa troppo male. Somma, ma io vedi? Gli attitudini indietro ora. Oh no. Torniamo indietro ora. In fondo l'acqua. Sì. Onde va? Onde va? Onde va? Vai, sappia il gelato. Siamo mandati alla mamma questa? Sì.